Youtubiani, quesitino, che cos'è? Che cosa ci ho fatto? Lo scoprirete guardando questo video. Vabbè, vi conviene guardarlo? Elisa, ma il tuo basilico è tutto in fiore? Facciamo le frittelle di fiori. Ma lo usate? Sono edibili, eh? Sappiate, lo dico agli scettici. Adesso io li sto spetalando. Si dice, si dice petaloso. Figurati spetalando se non si dice. Ah, mi è cascata tutta l'acqua dentro. Farina, acqua gassata e creiamo la nostra pastella. Morbida, ma non slengua. Io ci aggiungo anche un po' di pecorino. E poi ovviamente i nostri fiori di basilico. Un po' di sale e un po' di pepe e giriamo. E' arrivata in temperatura l'olio, 175 gradi. Fiori di basilico che mi hanno schizzato addosso un po' di olio bollente. Ma per voi non soffro. No. Embrine. Guardate la frittella gonfia grazie all'acqua gassata. Colore perfetto. Stazzito per la tua. Crunchy, buone da bestia. Me lo sapete dire? Fatele foto e commenti. Guardate belline. Alla prossima ricetta raga. Pazze, pazze.